Apocalisse capitolo 21 Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Eccola dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse, scrivi perché queste parole sono certe e veraci. Ecco sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega. Il principio è la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso e renditerà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vidi e gli increduli, gli abietti e gli omicini, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori, è riservato allo stagno ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda morte. Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò. Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte. Sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli di Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato. La sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna. Misura dodici mila stradi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Ne misurò anche le mura. Sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terzo cristallo. Le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di diaspro. Il secondo di zaffiro. Il terzo di calcedonio. Il quarto di smeraldo. Il quinto di sardonice. Il sesto di cornalina. Il settimo di crisolito. L'ottavo di berillo. Il nono di topazio. Il decimo di crisopazio. L'undicesimo di giacinto. Il dodicesimo di ametista. E le dodici porte sono dodici perle. Ciascuna porta è formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. Non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.